Santa Bartolomia Capitanio ha fondato l'Istituto Amante della Gioventù e di ogni opera di carità spirituale e materiale. Santa Vincenza Gerosa è stata affiancata a Santa Bartolomia quando era molto grave e Don Bosio ha voluto che fosse la confondatrice dell'Istituto e hanno voluto un Istituto tutto fondato sulla carità attraverso le varie opere di misericordia corporale e spirituale. Grazie a tutti!